sempre 23 maggio amici sono passato prima in via locorodondo davanti al centro anziani luigi petroselli e qui sono venuto sempre su indicazione dei cittadini davanti a quello che resta della piscina azzurra 7 la piscina del quarticciolo guardate c'è un albero un pino caduto e ormai secco addirittura sul tetto della piscina qui davanti a questi cancelli ci ho fatto delle manifestazioni c'era francesco figliomeni c'era svetlana celli c'era diario il presidente della commissione sport ricordo le commissioni sia in trasparenza che della commissione sport e dove prendevano impegni qual è l'impegno è quello di arrivare nel più breve tempo possibile alla distruzione di una piscina tra l'altro a cui partecipai anche all'inaugurazione ricordo il sindaco ugo vedere ugo vedere sì sì c'è anche una foto e questo è quanto ormai è tutto avviata la distruzione tutto è secco l'altro anno qui c'è stato un incendio intervennero anche i pompieri e però qui non cambia nulla e più diciamo c'è il fermo più non si riattiva questa piscina e più aumentano i danni dell'impiantistica e diventerà una cifra enorme assurda sindaca assessori presidenti di commissione consiglieri meno spot datevi da fa qui il questo quartiere quarticciolo rischia di pre di perdere uno dei suoi beni primari la piscina azzurra 7 che insieme al teatro quarticciolo sono diciamo dei punti notevoli positivi del quartiere però guardate qui se questo è positivo quando intervenite fateci lo sapere meno spot e sindaca meno spot è inutile che lei mi va a ostia e mi fa vedere l'impianto dello skateboard per i ragazzi per gli adolescenti questa è anche roma questa è anche roma questa è anche roma sindaca assessori consiglieri datevi da fare questi ultimi mesi che vi sono rimasti perché roma voi secondo me non la vedrete più perché avete dimostrato tutta la vostra incapacità l'insicurezza è chiaro che eravate novizi ma il noviziato diciamo poi diventa con lo studio con diciamo la benegazione con l'attaccamento a quello che è territorio a quello che è bene comune a quello che sono servizi a quello che sono le buone pratiche della buona politica porta a un miglioramento e a vedere dei risultati nel giro di poco tempo sono passati quattro anni e questo è ha chiuso con voi e rimarrà probabilmente chiusa con voi arrivederci e stateve bene buona domenica